Il Consiglio dei Ministri ha commissariato tre comuni calabresi, Gioia Tauro, Laureana di Borrello e Bova Marina. Per Gioia Tauro è il terzo scioglimento. Questa volta il Consiglio dei Ministri interviene su un civico possesso, già decaduto, e in una città che si preparava al voto dell'11 giugno. La commissione d'accesso, inviata dal prefetto Michele Di Bari, si era insediata il 7 marzo scorso e, particolare non comune in questo caso di scioglimento per mafia, aveva consegnato la sua relazione finale a metà aprile, ovvero molto prima dei 90 giorni di tempo che la legge assegna a organismi di questo genere per accertare i condizionamenti. Un lavoro più rapido del previsto, quindi. Evidentemente, tanti erano già dispunti appresi dall'ordinanza dell'operazione antimafia Convertazione, che nel febbraio scorso aveva portato, fra gli altri, all'arresto della funzionaria comunale Angela Nicoletta e di diversi congiunti del sindaco Giuseppe Pedà. Lo scioglimento deciso oggi, su proposta del ministro Marco Minniti, segue quello del 2009. In entrambi i casi si interviene dopo inchieste penali. Nel primo caso si trattò dell'indagine cent'anni di storia. In tutte e due le volte la decisione ha colpito sindaci di centrodestra, prima Giorgio Dal Torrione e ora Giuseppe Pedà. Si rimane ora in attesa della pubblicazione del decreto, per scoprire particolari in più sulle motivazioni poste alla base della decisione. Tutto si ferma quindi a Gioia Tauro. La cittadina dovrà essere depennata dal novero dei comuni dove stavano per essere convocati i comizi elettorali.